Ciao, sono Irma Vistilla, chitarrista delle Black Mamba. Vorrei invitarti a partecipare a questo contest, in cui AssassinX mette in palio 12 note di corde. Per partecipare basta cliccare nel link qua sotto e seguire le istruzioni. E se ti piace questo video, condividilo. Grazie a tutti. Ti ricordo che per partecipare al contest e vincere 12 note di corde devi cliccare il link qua sotto e seguire le istruzioni. E se ti piace questo video, condividilo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.